Nucchiangelo, Enrico, Nucchiangelo Guaghiu venite a pressa a me che oggi voglio chiedere ad Enrico i modi di mangiare la pizza napoletana Ciao Enrico Buongiorno Michele Vogliamo far vedere agli amici di città di Napoli come si mangia la pizza napoletana i modi di mangiare la pizza napoletana Allora facciamo vedere come tentano di mangiare la pizza napoletana perché alla fine la pizza napoletana si mangia in un unico modo E quindi vengo a pressa a te Vengo a pressa a me Vengo a provare la pizza e poi lo faccio prima E vai Primo modo Guaghiu a portafoglio tipico modo di mangiare la pizza nel napoletano soprattutto nei veicoli di Napoli A questo io vorrei Come è? Che vuol dire a fare? Secondo modo Guaghiu A spicchi Anche in questo caso si mangia con le mani Si taglia la pizza qua Si piega Si arrotola E voilà Vuoi che fanno Anoriente stanno cercando di mangiarla così? Io non ci riesco neanche però chissi non sa come fanno Come è una gianna? Non c'è niente Harry, non c'è niente Quinto modo di mangiare la pizza Quinto modo di mangiare la pizza Quinto modo di mangiare la pizza E' quello che veramente mi fa gianna Voglio un buco E' un pozzo che non ci si fa Buffa il cefale E' un pozzo che mi fa gianna E' un pozzo che mi fa gianna E' un pozzo che mi fa gianna Voglio un Enrico Sai gianna E voi Come la mangiate la pizza? Fatemi sapere con la reazione E con un commento Enrico E quindi Che ne pensi? Che ne pensi? Pura pizza Sì, da sapere mangiare